Allora, ciao ragazzi, io vi chiedo scusa per ieri sera perché non sono riuscita a caricare il video e l'uscita esplosiva che doveva essere quella di ieri sera con la nuova stagione del GP è stata rimandata stasera quindi mi raccomando stasera alle 21 collegatevi sul mio canale che ci sarà il seguito poi dell'ultimo video, quello del camping e ci saranno tantissimi altri video che ho girato quest'estate insieme anche a un gruppo di ghost hunter, i signal hunter che saluto, ciao a quel rado, ciao a Lara e tante novità, tante belle indagini o esplorazioni se così le vogliamo chiamare e vi aspetto comunque stasera alle 21 su GP Ghost Hunter ok, ciao